Siamo arrivati. Allora, ciao Miria. Ciao Flavio. Di cognome? Curzio. Curzio, da dove? Allora, sono da Monselice, vivo a Monselice, però esattamente sono da Pozzonovo. Va bene, apriamo la clip della ragazza di Pozzonovo e Monselice, la baruoma più bella del mondo. Miria Curzio e il suo sorriso fanno la loro entrata nel 72 a Monselice, in provincia di Padova. La ragazza da look incerto, alla fine decide per il taglio sportivo, diventando pallavolista fino ad arrivare in B2. Ma a Miria piace stare a contatto con le persone e allora insieme a un'amica apre un bar. Dopo un matrimonio andato male, un giorno al bar tra un caffè e un cappuccino assaggia una bomba alla crema di nome Christian e con lui mette al mondo un croissant chiamato Mattia. Ma stasera vuole farsi servire 500.000 euro. Auguri Miria e ricordati che ad affari tuoi bisogna essere comunque campioni. Che c'è dietro questo?